Dove vai? Mamma, te l'ho già detto tre volte, giuro. Te l'ho detto tre volte che andavo a uscire e uscivo fuori stasera. Non è vero. Pensavo scherzassi. Devo andare dal signor Esposito. Te l'ho già detto, ma tu tanto non mi credi. Vai dal signor Esposito. Il signor Russo se ne va. Se ne va via dalla ditta dopo molto tempo. E allora il signor Esposito ha fatto una festa in suo onore. Beh, non proprio una festa, sai. Insomma, ha invitato tutti. E ci devo andare anch'io. Non ho nessuna voglia, ma devo. Eh, allora, se non hai un piano. Lo sai che non faccio tardi. Va bene. Poi non ho nessuna voglia di andare a casa del signor Esposito. Io preferisco stare qui con te. Davvero? Lo sai che è così. Dovevamo giocare a carte. Beh, adesso non posso, devo andare. No, senti, Alberto. Devi cambiare la luce nella stanza della nonna. Senti, mamma, non posso andare in cantina così. Mi sporcherei tutto ad andarci. Se ci fosse la luce in cantina, le lampadine le troveresti subito. Ok. Non vorrei che ci vada io in cantina. Va bene, però adesso non posso. Senti, Albert. Mamma, io non capisco perché ci sta la lampadina in cantina. Dobbiamo mettere sempre quelle lampadine là. Se tuo padre ti sentisse, per l'alzare la voce con me, si rivolterebbe nella tomba. Non ho che te, Albert. Scusa. Ricordatelo. Non ho nessun altro al mondo. Mettitelo ben in testa. Scusa, si è alzata la voce. Però devo andare. Devo chiederti una cosa. Che cosa? Ti comporti bene, vero? Bene. Non è che ti comporti male. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che non è che vai in giro con delle donne. Cioè, stasera non vai a spassartela con delle donne. Mamma, non dire sciocchezze, dai. Dai. Allora? Non ne frequento nessuna lì, va bene? Allora, mi vuoi dire che alla festa della ditta non ci sono donne? E le ragazze dell'ufficio? Sì, però ti ho già detto che non ne frequento nessuna. Giura. Ma su chi devo giurare? Che non darai dispiacere a tuo padre. Non fai altro che dire che do dispiacere a gente che è morta e sepolta. Guarda, se... Mi fai molto male. Sì. Sì, mi fa male sentirti parlare così di tuo padre. Ma sei morto. No, è vivo. È vivo qui. E anche in questa casa. Fammi andare. No, è vivo qui. No, è vivo qui. No, è vivo qui. No, è vivo qui. Grazie.